Gli ordini dello start sono partiti, grazie dallo studio Valerio Giubilo si mette dietro Elusiv Giannis e questa è la prima notizia, punta di diamante, Allimac ma soprattutto Breton March e Piccio Paccio, questo era abbastanza prevedibile con Piccio che chiede strada a Breton March che lo fa passare e allora è in vantaggio Piccio Paccio, Michael Arras in vantaggio su Breton March che precede Allimac e punta di diamante che avvicino Remanfredi, Elusiv Giannis, Rosenquist in coda Multicolors Piccio Paccio prova a portare la corsa sul terreno preferito, quello dell'andatura regolare a lungo finale, Allimac gli è subito lì, Breton March è raggiunto all'esterno da Remanfredi, quinto in corda e punta di diamante con di fuori Rosenquist e poi Elusiv Giannis con di fuori Multicolors, Piccio Paccio affronta la letta di fronte in vantaggio allungando da Allimac, Breton March, Remanfredi, punta di diamante, Rosenquist, Multicolors e Elusiv Giannis con Piccio Paccio, Michael Arras sempre in vantaggio, Allimac si è per il momento messo dietro perché Remanfredi muove ora all'esterno e allora Allimac di fatto è portato in una corsia leggermente diversa quella rispetto alla scia di Piccio Paccio e allora Allimac va su Piccio Paccio, guadagna posizione interna, punta di diamante Remanfredi e Breton March muovono Rosenquist e stesso quando si formano due terzetti davanti Piccio, Allimac e Remanfredi, poi punta di diamante, Breton March e Rosenquist in coda Elusiv Giannis e Multicolors con Allimac che preva traguardo lontano prova la soluzione di forza Allimac su Piccio Paccio e Remanfredi Rosenquist che va in mezzo alla pista, punta di diamante che va per Varchi Allimac che attacca Piccio Paccio che prova a tenere poi Breton March all'interno, punta di diamante, di fuori Rosenquist Allimac è in vantaggio, ricorso da Rosenquist poi da Breton March prova la ricorso a Elusiv Giannis con Fabio Branca che sfila la frusta sta passando Rosenquist da Breton March, da Remanfredi all'argo da Elusiv Giannis poi da punta di diamante, Rosenquist è in vantaggio lo scatto di Elusiv Giannis all'esterno, Elusiv a fil di polo stampa Rosenquist e punta di diamante, poi Allimac aveva stracorso l'ultima volta, un finale incredibile oggi ben centellinato dal suo interprete Elusiv Giannis viene a battere Rosenquist e punta di diamante 8, 5, 7, probabile ma non ufficiale l'ordine d'arrivo del premio Sanzonetto in questo caso, 5, 50, Elusiv Giannis, Peppe Ercekovic puntuale nel suo finish ad effetto, è tutto premio Sanzonetto, terza corsa del pomeriggio la prima in piano, chiediamo a Andrea Materesi di fare un giro fuori prima